Lo spettacolo del Giro d'Italia sul traguardo di Arezzo ha premiato Gianluca Brambilla, bellissima la sua vittoria in solitaria. Sullo sterrato dell'Alpe di Poti si è accesa la gara, tutto come previsto, anche i big si sono dati battaglia con Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali. E poi sul traguardo qui in Via Ricasoli davanti al Duomo di Arezzo la splendida vittoria dell'italiano Gianluca Brambilla che conquista così tappa e maglia rosa. Oggi lo sterrato era solamente in salita e secondo me sì, così asciutto e battuto non rompeva tanto le scatole. Se pioveva sì, era veramente molto più difficile. Se può essere interessante ho scelto tubolari normali, a differenza della strada bianca che ho usato i 26, ho usato i 24, la bici normalissima. Una vittoria cercata col cuore. Se uno la vuole veramente deve lottare non solo nella prova come è stato oggi ma soprattutto prima a casa, sacrifici, rinunce e così portano questi risultati. E soprattutto avere le persone giuste accanto come la mia ragazza che assieme facciamo una gran bella coppia a vedere dai risultati.